Buonasera. Buonasera, brava gente. Eccoci qua. E allora, stasera ci mettiamo di fronte a San Francesco. Eccoci qua, come state allora? Stasera vogliamo ascoltare il Vangelo preparandoci a quella che sarà la grande giornata mondiale dei bambini, il 25 e 26 maggio. E chiediamo a Francesco di esserci accanto, di starci accanto e di farci in questo periodo dove il rumore, il fragore delle armi, delle guerre è più forte del cammino lento e faticoso della pace, di starci accanto. E allora ascoltiamo, brava gente. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Allora volerò prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Brava gente, quante volte ci siamo chiesti, ma con questo Vangelo, con questo episodio, il Signore che cosa ci vuole dire? Credo che sia una grande domanda. E allora ho chiesto aiuto ad un grande teologo, a Papa Benedetto, e lui annota così. Il mare simboleggia la vita presente e l'inistabilità del mondo visibile. La tempesta indica ogni sorta di tribolazione, di difficoltà che ci opprime, che opprime l'uomo. La barca, la barca invece rappresenta la Chiesa, la Chiesa amata e guidata da Gesù. E allora la domanda sorge spontanea. Che significato assume questo passo del Vangelo? Ci viene incontro un altro grande scrittore, Romano Guardini, che vi consiglio di leggere, brava gente, perché è davvero molto profondo, anche molto chiaro. Questo grande pensatore scrive E' sempre vicino Gesù, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia, dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra due grandi poli. Il polo della lontananza e il polo della vicinanza. Poi continua. Dalla vicinanza noi siamo fortificati. Quando sentiamo Gesù vicini siamo fortificati, camminiamo con più... Insomma, siamo più spediti nel camminare. Quando invece lo sentiamo lontano è il momento in cui siamo messi alla prova. Una cosa è certa. Gesù dice a ciascuno di noi Coraggio, sono io, non abbiate paura. E' così che cresce la nostra fede in Lui. Brava gente, vedete, ci sono momenti in cui pensiamo di camminare senza il Signore o vogliamo camminare senza il Signore. Che succede? Succede che quando pensiamo di far da soli rischiamo di affondare. Quando invece chiamiamo il Signore e diciamo Signore stacci vicino, allora la tempesta si calma e la barca riprende il cammino. Questo vale per ciascuno di noi, ma vale anche per la Chiesa. E quindi, davvero, la tempesta ci dice che ci sono le piccole e grandi tempeste nella nostra vita. Ma la sua presenza ci dice una cosa ancora più interessante. Che Lui ci aiuta ad affrontare le difficoltà della vita. Ecco perché noi abbiamo bisogno, brava gente, di dire Signore stammi accanto. E allora sono vere, diventano vere quelle parole. Forti, forti, forti. Perché se c'è Lui, Lui ce lo dice. Forti, forti, forti. E andiamo avanti. Ecco il piccolo pensiero di oggi, di questo nuovo sabato che ci accompagnerà, che ci aprirà le porte alla domenica. E andiamo avanti, brava gente. Andiamo avanti senza scoraggiarci. E stiamo pregando, insieme a voi, qui accanto a San Francesco, vuole dire un Ave Maria. Affidando in questo sabato la giornata mondiale dei bambini a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E avanti, allora, avanti, 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 avanti. Vi ricordo che sabato mattina c'è sempre il TG1 Dialogo. Vi aspetto alle otto e un quarto. Domani è una bellissima puntata. Domenica alle 12 ci troveremo tutti a Piazza San Pietro. Chiarando per la giornata mondiale dei bambini. Ascolteremo cosa Papa Francesco dirà all'angelo. Allora, ci colleghiamo, sì? Ci colleghiamo? E avanti, 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 avanti. Stasera sto camminando un po' nel giardino del nostro convento, che non è malvagio. Insomma, è carino, però c'è anche un albergo vicino. Quindi non è tutto dei fraticelli. E andiamo avanti, andiamo avanti forti, forti, forti. Mi raccomando, iscriviamoci alla giornata mondiale dei bambini. Vi ricordo il sito giornatamondialedibambini.org. Stanno arrivando i disegni, i temi, le poesie, che sono straordinarie. E vedrete che tutti questi disegni che voi inviate, oggi sono arrivati tantissimi disegni dal Brasile, ad esempio. Da Hong Kong. Vi posso dare un numero. Siamo arrivati ad 80 nazioni presenti alla giornata mondiale dei bambini. Se voi ve lo immaginate quello che ci sarà il 25-26 maggio. Sarà una cosa veramente spettacolare. Perciò dico a tutti, ci dobbiamo essere. Ci dobbiamo essere. Anche solo un giorno. Chi vuol venire solo il 25, oppure solo il 26 maggio a Piazza San Pietro. Il 26 maggio possono esserci anche più adulti e meno bambini. Perché la piazza offre davvero tanta possibilità. Ma voi continuate ad iscrivervi e andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ci sono due saluti. Non mi sono spostato, speriamo che riesco a leggerli. Che ne dite? Ci riusciranno i nostri eroi? Vediamo. Saluto Tony Anni, che è in difficoltà. Ci ha chiesto la nostra preghiera. E poi c'è Giuseppina e Giuseppe Hauber, che fanno 25 anni di matrimonio. E gli facciamo un applauso a tutti quanti. Nozze d'argento. E avanti, avanti, avanti e forti. Ok? E allora? Noi ci scoraggiamo, va bene? Mi raccomando, mi raccomando, santamente. Sabato mattina ti c'è un dialogo e andiamo avanti. Ok? Buona serata, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata. Brava gente. Grazie. Grazie.